Notino Semplicemente arrivi Sneakers quando ti senti fuori fase? a che c'è coltrona te zambrè ma fete saschni ma se ta shmier pe ti a k'è da shi k'u kero spi ne paske posti shmirti mesi shmirti mesi mi paske posti shami 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 ti c'è maje 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 saschni maje 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 n maje Grazie a tutti 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 Grazie a tutti